Giovene ancora, benvenuti, benvenuti, e di grandi auguri a tutti i nostri, in modo che salutate la Madonna, offrite la vostra santezza, perché la Madonna vedia tanta salute, va bene? Tanta salute, ho fatto il sacrificio, puoi aiutare sempre, va bene? La Madonna è una mamma e ci deve ascoltare, ripeto, ci deve ascoltare, la mamma è fatta proprio per ascoltare i figli, e noi abbiamo una mamma con la Emma, affidiamoci alla mia, la benedizione di Dio, i figli e i figli e i figli e i figli, il discenso di voi, se non ci manca sempre amico, facciamo dire, adesso ho dato la Madonna, diciamo una prima messa alle nove e mezza, Sì, sì, è quella scuola, e poi ce ne andiamo. Eh, perché? Perché gli anni si sono andati con le tue. E poi ce ne andiamo a stare un'altra, perché ci ricordiamo in base agli arrivi. Va bene? Benissimo.